È più pulito il bagno di un autogrill o di una panineria. Nell'area di sosta puoi trovare di tutto. Ma come sarà il bagno? Non resta che scoprirlo. La porta si chiude bene e all'occhio sembra pulito, ma alzi lo sguardo e trovi questo. Infine, per lavarsi le mani sotto il sapone c'è anche il piattino. Ma adesso mi trovo a bolo e mentre mangio un panino proprio buono mi scappa. La porta non si chiude, lo stato è in pessime condizioni. Meglio il panino.